Io sono Luigi Izzo, sono un chirurgo plastico, sappiamo che le staminali sono verosimilmente l'evoluzione della medicina, ogni giorno noi scopriamo nuove applicazioni e rivoluzioniamo le nostre teorie, da ora a vent'anni noi non sappiamo dove arriveremo, siamo già arrivati secondo noi abbastanza avanti, in pochi anni, tra dei decenni non sappiamo più dove arriviamo e chiaramente il vantaggio del prelevo dal tessuto adiposo è che è molto semplice da prelevare e riusciamo a togliere anche un po' di cuscinetti di grasso che magari sono antiestetici e non piacciono.